Ciao, benvenuti di nuovo. Iniziamo subito con una cazziata. Non avete mai sentito questo modo di dire come nel piccolo così nel grande. Le cose che fai, le piccole cose che fai e come ti comporti quando le fai riflettono esattamente come ti comporterai quando dovrai affrontare le cose grandi. Se il corso inizia alle 10, inizia alle 10, non alle 10 e mezza. Come ti comporti nel piccolo così ti comporterei nel grande. È così. La puntualità è una delle cose importanti. Se lavorate con una realtà come una galleria e avete comportamenti così elastici, per usare un eufemismo, se lavorate con una galleria leccese forse è tollerato, ma se lavorate con una galleria milanese non è tollerato. Questo corso inizia alle 10. Alle 10 vi voglio tutti qua. Lo so che fa fatica, ma fa fatica anche a me. Quindi se la faccio io, che non ho bisogno di far fatica, la potete fare anche voi. Iniziamo la giornata parlando di questioni economiche. Chissà come si stabilisce il prezzo di un'opera? Il microfono ce l'abbiamo per gli interventi? Io devo stabilire il prezzo del mio lavoro. Come faccio a stabilirlo? Esiste un coefficiente che va ad aumentare a mano a mano, che aumenta la carriera artistica dell'artista in questione? Dicevo che esiste un coefficiente che va ad aumentare, parte da zero. Il valore del quadro, in questo caso della pittura, del quadro è la somma della base più altezza, per il coefficiente. Per il coefficiente. Adesso spieghiamo bene. Nel mondo economico, il prezzo delle cose si stabilisce in base alla domanda e all'offerta. uguale per il mondo dell'arte. Cioè, io faccio una cosa e creo un'offerta, deve esserci una domanda in grado di assorbire l'offerta. Io posso anche credere di essere un grande artista, ma se faccio i dipinti, o le foto, o i video, o performance, e nessuno se le acquista, non c'è la domanda. E quindi questa è un po' la parte sensibile della questione. Diciamo che però esiste una convenzione, no? Per stabilire questo prezzo. Una convenzione che è fissata a un minimo iniziale, diciamo, l'inizio carriera, e che va progressivamente a crescere se ci sono le condizioni perché cresca. Non cresce automaticamente. Questa cosa, per stabilire il prezzo, si chiama coefficiente o chiave. Chiave o coefficiente è un valore numerico, ovviamente artificiale, però, che serve a dare un'indicazione di massima, e che è relazionato soprattutto alle dimensioni di un'opera. Come si calcola? In parte ce l'ha spiegato lei, in realtà ci sono dei trucchi per calcolarlo. È molto più facile da applicare alle opere bidimensionali. Un po' più complesso sulle opere tridimensionali, ancora di più sulle opere che non sono concreti, manufatti, come ad esempio i video, o come ad esempio delle performance. È adatto soprattutto per la pittura, la fotografia. Si fa così. Si prende la misura in centimetri della base e dell'altezza. Si sommano, quindi base più altezza. E si moltiplicano per questo numero di coefficiente. Detto così sembra facile. In realtà, se uno non fa un piccolo trucchetto, non viene. Facciamo un esempio concreto. Io ho un dipinto 100 per 100, ok? Faccio 100 più 100, 200. E moltiplico per il coefficiente. Il coefficiente è un valore numerico che va da 0,5 a infinito. L'artista che inizia ha un coefficiente di ingresso. 0,5. C'è proprio il minimo sindacale. Ok? Un artista che abbia già fatto qualche mostra e abbia avuto qualche riscontro di vendite può salire 0,7, 0,8, 1. Da 1 in poi iniziano già a diventare dei coefficienti interessanti. Ci sono artisti che hanno fatto tante cose che hanno ancora coefficiente 1,5. Diciamo che per un giovane artista il range va da 1 al massimo 2. Ovviamente grandi artisti hanno grandi coefficienti. Per esempio Salvo aveva un coefficiente 20 fino a prima della crisi. Ci sono anche coefficienti che arrivano a 30, 40. Se provate a fare la moltiplicazione diventano dei prezzi altissimi. Allora, torniamo al nostro esempio. 100 più 100, 200. Prendiamo il coefficiente di ingresso, 0,5. Si fa 200 per, scusatemi, 200 per 5. Perché si fa 5? è una convenzione. Noi sappiamo che dobbiamo sempre aggiungere uno 0 al coefficiente. Cioè, se abbiamo coefficiente 1 facciamo 200 per 10. Fate i calcoli. Se abbiamo coefficiente 0,5 facciamo 200 per 5. 200 per 5 fanno 1000. Vuol dire che quel quadro, quella foto, vale 1000 euro. Questo è il coefficiente d'ingresso. Il pezzo è grande. Di questi 1000 euro, però, non è che li prendete tutti voi. Non so come dire. Se qualcuno vende privatamente è buona norma che non venda al prezzo pieno. Questo è il prezzo pieno per il pubblico. Per il pubblico che abbia visto l'opera in una galleria. o in uno spazio in cui ci sia un accordo tra l'artista e il venditore. Come si regolano questi accordi? In molte maniere. Non c'è un modo unico. Però diciamo che la cosa più onesta è convenzionalmente che artista e venditore facciano a metà. Quindi, al momento della vendita si dividono 50% all'artista 50% al gallerista o venditore. Questo è il caso in cui i lavori dell'artista siano nel cosiddetto conto vendita o conto deposito, come volete chiamarlo. Cioè, io artista faccio una mostra. Il gallerista non si impegna all'acquisto di nulla, ma si impegna solo a vendere. Il patto è che se vende prende il 50% di questa vendita e voi altrettanto. Questo è il comportamento diciamo della galleria ai tempi della crisi. O delle piccole e medie gallerie con non molte sostanze e non molta potenza economica. La via maestra però è quella delle gallerie che investono. Cioè, una vera galleria è una galleria che compra i lavori dell'artista in cui crede, normalmente tutti i lavori, e fa magazzino. Fare magazzino significa che il vero introito, diciamo, il vero guadagno si realizza dopo anni. Cioè, io metto via i lavori, credo in questo artista, gli faccio fare molte cose, lo inserisco in una serie di situazioni pubbliche, lo faccio lavorare con i curatori, insomma, faccio un lavoro di promozione su di lui, lo sto comprando a 0,5 ma se lavoro bene faccio in modo che lui faccia una serie di passi e che questo coefficiente si alzi perché i lavori vengono venduti, perché inizia a fare mostre in situazioni interessanti, magari in spazi pubblici, ed è un lavoro che dura anni. A questo punto io ho dei lavori suoi che sono lì come il vino a maturare. Se il vero gallerista quando rivende i lavori dopo 10-20 anni realizza veramente un grande guadagno, questo fanno le grandi gallerie, cioè non solo i mercanti che devono realizzare il guadagno immediatamente. Cioè, le grandi gallerie soprattutto quelle storiche hanno sempre fatto così, prendono un artista, comprano tutto, mettono via, lavorano sull'artista, sì, ovviamente vendono qualche qualche pezzo per, come dire, sopperire all'investimento fatto, cioè comprano a poco ma venderanno a molto. Questo è il lavoro vero dei grandi galleristi, cioè lavorano sul tempo. Gallerie come Lorenzelli Arte a Milano, che ne so, dite una galleria, non so, Liarumma, Marconi, gallerie che hanno trattato artisti importanti e storici. Marconi non ha fatto il danaro con Fontana subito, è probabile che ne abbia fatto molto di più dopo. Ecco, chi ha creduto in alcuni artisti come ad esempio Castellani, Bonalumi, che all'epoca non avevano una grande domanda, hanno realizzato dopo, lo stesso che ha trattato Manzoni, cioè, chi ha trattato i nomi storici in un periodo in cui, credetemi, nessuno li voleva, non li voleva nessuno. Un artista come Turi Simeti, che fa parte di questa scia di ottici cinetici o comunque che hanno lavorato anche sulla sagomatura della tela, hanno vissuto anni di magra tremendi, cioè, hanno venduto magari anche all'estero, però, oggi Simeti ha quintuplicato i prezzi, certo, ha 80 anni e uno dice, beh, se devo arrivare fino a 80 anni, sì, di norma succede qualcosa di simile, sono, alcuni hanno la fortuna di realizzare in vita, no? Vedi Damian Nirst, Jeff Koons, altri realizzano in tarda età, comunque, il tempo è uno spartiacque, cosa succede in questo tempo? Si forma la storia dell'artista, è chiaro che qualcuno che compri un artista che ha una storia, che ha partecipato a determinate mostre, lo fa più volentieri e sono pochi invece gli artisti, cioè i collezionisti che comprano chi ancora non ha realizzato la propria storia, cioè, comprare oggi un artista storicizzato vuol dire comprare qualcuno che ha fatto quasi certamente la Biennale di Venezia, quasi certamente documenta a Kassel che ha fatto mostre all'estero che è entrato in collezioni importanti o che è stato acquisito da musei, è giusto che costi tanto, in mezzo c'è stata la storia, il grande gallerista sa che c'è questo percorso e ha fiducia nel proprio mestiere che questo percorso lo traccerà insieme all'artista. Questo è, come dire, l'un per cento delle gallerie, fa così. poi ci sono le gallerie così come noi le conosciamo. Le migliori quando decidono di fare una mostra fanno un piccolo investimento, magari comprano qualche pezzo, non tutta la mostra, però magari su una mostra due, tre pezzi, quattro pezzi e poi il resto in conto vendita. Queste già permettono all'artista di tirare un sospiro di sollievo, avere un iniziale introito e poi sperare in future vendite del resto dei pezzi. In questo caso il rapporto cambia, nel senso che su quei pezzi che vengono venduti prima della mostra si esercita effettivamente un rischio della galleria e questo rischio va ripagato. Non si può fare 50 e 50. La norma è che il gallerista e l'artista si accordino per una percentuale più vantaggiosa per il gallerista. Cioè io acquisto poniamo esempio 5 pezzi da te prima della mostra perché credo in te ma li acquisto con uno sconto del 70%, cioè li acquisto al 30% oppure al 35%. La norma è questa, va dal 25% al 35%. Per esempio Cannaviello acquista mi dicono al 25% i giovani alcuni altri la maggior parte acquistano prima acquistano al 30-35%. Pochissimi arrivano al 40%. Ovviamente più sei un artista conosciuto e con un potere più puoi contrattare in questa transazione tra te e la galleria. Però la norma è io acquisto prima 30-35%. Perché rischio? Io non so se venderò però è anche vero che nel momento in cui acquisto quei pezzi quando faccio la mostra la mia attenzione di gallerista si concentra sulla vendita di quei pezzi che sono miei e in cui io avrò un maggior guadagno. Li ho pagati il 30% li vendo al 100% quindi realizzo il 70%. Su quelli in conto vendita realizzo il 50%. Ovviamente secondo voi a cosa mi dedico con più affetto diciamo però non finisce qua i patti non finiscono qua può anche succedere che tu sia un artista importante poniamo Cunellis e la tua galleria faccia una mostra e faccia l'acquisto preventivo di solito sei però un grande artista importante con le spalle grosse la tua percentuale non è il 50% neanche per l'acquisto preventivo può arrivare fino al 70% cioè ovviamente più potere hai e più lo eserciti quindi abbiamo detto mostra in conto vendita 50 artista 50 gallerista mostra con acquisto preventivo di pezzi su quei pezzi 30% all'artista 70% al gallerista in caso di vendita ma comunque questo non ti interessa già più perché tu hai già venduto ok ci sono però altre cose che si filano in mezzo di solito può succedere questo il gallerista fa una mostra non acquista il patto è che si faccia il 50 e il 50 però lui ha già delle spese lui ha l'affitto della galleria lui vuole fare un catalogo e avere un intervento critico sono tutte spese e ti può dire vieni mi incontro io faccio queste cose per me per te tu mi lasci uno due pezzi me li regali come contributo è una cosa abbastanza normale succede non deve scandalizzarmi diverso è se non fa niente cioè ti fa la mostra ha le sue spese d'affitto e beh grazie io ho le mie spese di materiali stiamo pari è buona norma comunque che l'artista sia generoso di solito si lascia sempre un pezzettino un piccolo regalo guardate fare piccoli regali è utile non è come dire una forma è una forma di generosità cioè un piccolo quadretto per qualcuno che sia interessato a te al tuo lavoro è normale uno può anche non farlo non succede niente però io sono convinto che la generosità venga sempre ripagata magari non è un pezzo magari è un disegnino cioè è un pensiero no? come si fa quando si va a cena di qualcuno e si porta la bottiglia di vino non so eh un'altra cosa che può succedere è che la galleria con cui voi lavorate partecipi a una fiera la fiera ha dei costi anche in quel caso i galleristi possono fare questo discorso io ti porto sei un giovane artista non hai ancora fatto molto per me lo stand ha un costo mi viene incontro mi regali un pezzettino io ti porto così so che ho un pezzo che se lo vendo diciamo io rientro dell'investimento le gallerie normali prendono i loro artisti e li portano in fiera scelgono chi portare in fiera indipendentemente da questo discorso io vi sto prospettando che cosa può succedere cioè quello che non vi deve scandalizzare perché è ricorrente ma ovviamente anche queste cose che sono ricorrenti uno può decidere se accettarle o no uno vuole essere duro e puro e dice no io non ti do niente tu credi nel mio lavoro lavora oppure uno può essere più morbido e dire bene io ti aiuto a fare il tuo lavoro non ti pago in nessun modo ma ti regalo un pezzo ti do il disegnino eccetera eccetera vi è chiaro? ci sono altri tipi di transazione dunque un peccato capitale agli occhi dei galleristi è la vendita privata in studio se il gallerista si impegna nei tuoi confronti il minimo che ti chiede è che tu non lavori con altre gallerie nella medesima città tu lavori solo con quella galleria perché se inizi a lavorare con altre gallerie nella stessa città nella sua visione in questo caso anche corretta lui ha meno possibilità di vendere perché ti vendono anche altri è come il discorso del negozio monomarca se solo io ho il moncler se tu vuoi il moncler devi venire da me a comprarlo ok? questo è un discorso molto base barbarico ma è così quello che può succedere se la galleria è molto potente è tu in Italia lavori solo con me questo accresce ma chiaramente questo tipo di patti devono essere basati su un do-des perché questo possa avvenire il gallerista deve impegnarsi a un acquisto periodico che ti consenta di garantire questo monopolio no? certo io per essere fidelizzato bisogna che tu mi acquisti non può essere solo una parola detta no? alcuni lo fanno cioè vogliono questa cosa in cambio di niente qualche volta no qualche volta il contratto adesso ti rispondo il contratto quando si parla di contratti di esclusiva di solito è una stretta di mano qualcuno fa anche i contratti è mio a mia conoscenza chi fa regolare i contratti depositati dal notaio è la galleria Contini di Venezia che è una delle gallerie più importanti in termini mercantili nel senso che è una delle prime per fatturato in Italia tratta lavori di artisti storici da che ne so Mitorai a Larraz recentemente anche Robert Indiana e fa anche mercato di alcuni storici lui ha messo sotto contratto alcune persone il contratto è vincolante non è esclusiva italiana è esclusiva globale di questi e anche di altri universi paralleli non puoi fare nulla numero lavori in cambio di tutti i lavori però vengono acquistati dalla galleria tutti e chiaramente la galleria si aspetta che tu ne faccia molti e di solito fissa anche un numero ma appena sgarri ci sono i presupposti perché tu venga rovinato cioè è un contratto attenzione perché i contratti sono vincolanti e non ti permettono di fare quello che vorresti tu sei un artista vieni invitato da un curatore a fare una mostra devi chiedere il permesso alla tua galleria e se la galleria non ha piacere che tu lo faccia tu non lo puoi fare e se tu consideri che questa è un'occasione perduta te la metti via non so come dire quindi ci sono dei pro e dei contro ovviamente c'è una garanzia che tu economicamente abbia degli introiti quindi come dire plachi l'esigenza primaria di dover sopravvivere e di pagare i materiali e tutto quello che serve studio eccetera dall'altra però c'è un vincolo sul tuo raggio d'azione il quale deve essere concordato con il gallerista e in casi estremi è deciso dal gallerista però questi sono casi molto sporadici diciamo continui una delle gallerie sono sicuro che ce ne sono altre che fanno dei contratti iscritti di esclusiva però molto poche di solito il cosiddetto contratto di esclusiva è una stretta di mano è una parola data è un rapporto di reciproca fiducia che questo venga mantenuto questo è diciamo lo scenario del rapporto con le gallerie vi dicevo che il gallerista vede malvolentieri la situazione in cui l'artista vende per proprio conto questo accade lo capiamo tutti perché la galleria è insufficiente a garantire l'entroito di cui noi abbiamo bisogno quindi è normale che l'artista si muova autonomamente attraverso la sua rete di conoscenze amicizie di collezionisti che magari lo seguivano anche prima e quindi venda privatamente la galleria non è contenta qualche volta tollera perché sa che non può provvedere a quella mancanza e in questo caso però cosa succede? si crea una vera e propria concorrenza tra la galleria che vende le tue opere al 100% del prezzo poi fanno sempre lo sconto non vi preoccupate cioè dal 100% un 20 di sconto lo fanno di solito lo fanno sulla tua parte e sulla loro ugualmente distribuita in studio la convenzione quello che io ho sempre sentito è che l'opera non venga mai venduta al suo prezzo pieno perché non c'è la mediazione della galleria da dover riconoscere e quindi uno se anche vende alla metà del prezzo riceve lo stesso che riceverebbe dalla galleria però attenzione la galleria fa una promozione di tipo culturale la galleria ti fa il catalogo la galleria ti comunica la galleria ti fa fare un testo critico sul tuo lavoro è giusto che questo impegno venga riconosciuto la galleria ti vende la galleria è un punto dove i collezionisti convergono tu nel tuo studio stai facendo una cosa che non prevede tutte queste attività e quindi è giusto che tu la la venda meno però allo stesso tempo stai facendo un torto a chi ti vende in galleria cioè questo è è normale è tollerato in alcuni casi ma è normale qualcuno vende a più del 50% in studio arriva anche al 70% è a discrezione ovviamente per l'artista è una forma di potere avere dei collezionisti che sono affezionati a lui però questa forma di potere che si esercita per il fatto che questi possono darti degli introiti e quindi aiutarti a sostenere le tue spese si può esercitare anche portando questi collezionisti in galleria ma i collezionisti dove preferiranno andare? il catalogo lo prendono gratis dalla galleria il lavoro l'ha fatto la galleria io compro in studio tanto il lavoro è pubblicato nel catalogo però lo pago la metà cioè quando l'artista vende in studio deve sapere che sta procurando un danno cioè sta pensando solo alla sua piccola visione dopo un po' di volte il gallerista si scoccia e tu ti devi trovare un'altra galleria questo è quello che accade di solito c'è anche un altro tipo di transazione non ti vende il gallerista ma ti vende quella figura che vi ho accennato ieri che è quella del dealer il dealer non fa tutto quello che fa il gallerista quindi il dealer sta lavorando come mediatore cioè il dealer trova dei collezionisti che sono interessati al tuo lavoro ai collezionisti ovviamente dirà che lui portandoli in studio può garantire che questi comprino a un prezzo inferiore a quello che lo pagherebbero in galleria quindi anche il dealer fa concorrenza alla galleria il collezionista che non conosce l'artista viene portato in studio dal dealer il dealer prende una percentuale sulla transazione se fate rapidamente i conti l'artista può vendere al 70% cioè con 30% di sconto 20% lo dà al dealer lui ha sempre guadagnato il 50% oppure può essere più onesto abbassare la percentuale vendere al 60% dare il 20% al dealer e trattenere il 40% che è già di più di quello che avrebbe vendendo al gallerista prima della mostra un'altra forma è che il dealer invece porti i collezionisti in galleria questa è una figura più apprezzata ovviamente dei galleristi cioè sta facendo un lavoro di procacciatore di clienti cioè io sono dealer conosco quella galleria porto i collezionisti a quella galleria qual è il mio vantaggio di dealer? è che io potrò trattare i lavori che ha la galleria magari quelli di magazzino magari i lavori di storici con un prezzo più elevato e fare lo stesso portare i lavori della galleria a conoscenza dei collezionisti che sono la sua rete e quindi c'è uno scambio proficuo per entrambi ne ho conosciuti alcuni e molti lavoravano con le gallerie adesso sono figure che perlomeno io non conosco ne ho conosciuti tre o quattro ecco in Italia forse ce ne sono altri che io non conosco però mi sembra una figura che in Italia non abbia la fortuna che ha invece negli Stati Uniti negli Stati Uniti il dealer spesso è anche un curatore negli Stati Uniti il curatore e il critico non sono necessariamente la stessa figura mentre in Italia sì cioè io sono un curatore posso curare una mostra negli Stati Uniti e posso gestirne la vendita perché io ho una rete di contatti e di collezionisti quindi io sono principalmente un conoscitore di collezionisti passo il mio tempo a fare pubbliche relazioni e poi tra queste pubbliche relazioni ci sono anche quelle con gli artisti quando organizzo qualcosa in uno spazio oppure in un appartamento o dove voglio io faccio anche un lavoro di vendita sono un curatore non è detto che neanche abbia scritto una riga invece di norma i curatori negli Stati Uniti spesso sono anche dei giornalisti oppure dei professori universitari che scrivono solamente non si occupano dell'allestimento poi ogni tanto c'è la figura coincide c'è un curatore che è anche critico d'arte in Italia il curatore e il critico d'arte sono due sinonimi anche se in realtà quando tu fai un testo critico sei un critico ma quando tu allestisci una mostra io personalmente credo di averne allestite 250 se non di più e io ho messo tutti i chiodi spesso ho messo i chiodi ho trapanato i muri ho fatto un lavoro di allestimento altre volte quando mi è andata bene ho detto agli altri dove mettere le cose però per solito diciamo il più delle volte ho dovuto come dire lavorare insieme ad altri per fare il tutto quindi la visione dell'allestimento delle opere nello spazio è un lavoro molto diverso dallo scrivere un testo critico sono due cose completamente diverse uno esercita l'occhio l'altro esercita la capacità di pensiero e di interpretazione quindi vi ho detto i momenti di vendita possono essere studio galleria dealer ok quando dico galleria intendo qualsiasi elemento intermediario può essere anche l'associazione culturale che vi sta facendo una mostra ok voi sapete che sopra una certa cifra i passaggi di vendita sono soggetti al diritto di seguito sapete cos'è il diritto di seguito cioè allora io sono l'artista produco l'opera la vendo al mio gallerista primo passaggio nessun diritto di seguito per legge il secondo passaggio è quando il gallerista vende la tua opera a qualcun altro sul secondo passaggio c'è un versamento alla SIAE che deve fare il gallerista e il collezionista che sono pari al 2% del valore dell'opera e che poi si traduce in denaro che va a te perché tu sei proprietario sempre dei diritti di immagine tu non puoi tu collezionista non puoi pubblicare un'opera d'arte senza il mio consenso tu sei proprietario del manufatto ma io sono proprietario dei diritti intellettuali l'immagine è sempre mia e ogni passaggio è una percentuale che va versata e che poi di cui una parte di quello che viene versato resta alla SIAE e una parte va a me artista di solito questo è mi sembra su non sono certo perché non conosco tutti gli aspetti legali della faccenda ma mi sembra che sia su opere che sono al di sopra dei 3 o dei 5 mila euro di valore mi sembra di più più di 5 mila 10 mila comunque c'è la normativa sul sito della SIAE trovate diversi siti dove c'è questa normativa ovviamente riguarda artisti che hanno dei prezzi un po' più sostenuti però per alcuni artisti è comunque un introito saltuario che entra un po' come i diritti sulle canzoni politica di regalo delle opere oltre a quello che vi ho detto ci sono anche artisti che regalano o donano le proprie opere a delle istituzioni pubbliche la speranza è quella che il proprio nome entri in collezione io l'ho donato non l'hai dovuto pagare e mi metti nella collezione qualcuno invece dà l'opera come dire non mi viene la parola esatta ma comunque presta l'opera per un determinato periodo a patto che il museo la esponga per esempio qualche anno fa il Mart di Rovereto aveva all'ingresso una grandissima scultura di paladino ecco quella era data in concessione con l'obbligo di tenerla lì finché poi è stata restituita a un certo momento è buona norma regalare le opere d'arte se c'è se voi credete che ci sia un vantaggio una convenienza o semplicemente se vi fa piacere però ricordate è il frutto del vostro lavoro conosco molti artisti che usano i disegni o piccole opere come carta moneta cioè vado dal dentista il dentista è un piccolo collezionista mi fa l'intervento io gli do un disegno o una piccola opera vado dal commercialista anziché farmi pagare la parcella gli do un'opera cioè spesso viene utilizzato come merce di scambio a patto che la persona che vi eroga il servizio sia interessata alla cosa ok quindi ci sono domande adesso sulla questione economica del prezzo della determinazione del valore di un'opera sì sentiamo ecco ci sono cose che non abbiamo ancora detto sugli altri media rispetto al coefficiente è applicato però anche a dei multipli mi chiedevo allora è convenzione in Italia succedono delle strane cose allora il multiplo ovviamente costa molto meno la determinazione non c'è un sistema di determinazione del prezzo del multiplo ovviamente certo è che non ha nessun rapporto con l'opera originale come prezzo il multiplo deve avere prezzi popolari tanto più popolari quante sono le tirature quindi più tiratura di maggior numero prezzo popolarissimo per un giovane artista io ho pagato alcune serigrafie anche 20 euro ok altre le puoi pagare 200 300 500 per artisti storici puoi pagarle anche migliaia di euro dipende no non si applica il coefficiente invece cosa succede se sei un artista che fa pittura come ti comporti con la carta in Italia la convenzione vuole che la carta abbia un coefficiente dimezzato il disegno nel resto del mondo questa cosa non è applicata cioè se sei un artista che lavora solo su carta non ha senso ma comunque non ha senso in genere ha senso in Italia perché in Italia c'è nei collezionisti un'idea molto radicata anche sul valore sia della tecnica che dei materiali utilizzati per esempio è una cosa che via via sta diminuendo sta quasi sparendo però c'è proprio una classifica delle tecniche il collezionista attempato o comunque di una certa generazione preferisce l'olio e preferisce la tela in seconda battuta le altre tecniche tempera acrilico acquarello e via di seguito il collezionista preferisce la tela alla carta ok? cioè sono cose bizzarre ovviamente per me non hanno nessun senso ma credo derivi dall'originario valore proprio simbolico delle cose cioè l'olio ha una durata è vero che oggi gli acrilici hanno una qualità superiore di quella iniziale oramai sono veramente di ottima qualità però l'olio è tradizionalmente considerato più prezioso dura nel tempo la tela se è una buona tela è considerata migliore la tavola anche è un buon supporto però cosa succede per le altre tecniche allora se sono un fotografo posso ovviamente applicare il coefficiente però c'è il discorso della tiratura io faccio una foto è considerata mi sembra pezzo unico fino a una tiratura di 3-5 mi sembra cioè io faccio di quella stessa immagine 3-5 copie è considerato un pezzo unico cioè una foto di Vanessa Beecroft ha un coefficiente e ce l'ha sia che sia un pezzo singolo sia che sia in 3-5 più copie ma non molte da un certo numero di copie in poi invece va considerata la tiratura a meno che tu non sei un grande nome tu sei Basilico eh sì di quella foto ci sono 20 copie e questo è Basilico e lo compri quello che costa ok cosa si fa con i video boh mistero grande le gallerie che trattano video stabiliscono un prezzo credo che debbano considerare i mezzi di produzione cioè i costi di produzione e di realizzazione di quel video io non ho mai capito francamente ho parlato con molti video artisti i quali non hanno mai capito come si stabilisce il prezzo di un video certo è che anche il video ha una tiratura non è che puoi moltiplicarlo del video ci deve essere un numero dichiarato all'inizio e stabilito tolto quel numero il video non va più in giro se non una versione demo per le questioni didattiche per proiezioni per mostre ma quella non è l'opera l'opera ha un numero e una tiratura cosa succede per le performance chi è disposto a mettere mano al portafoglio per una performance raramente i privati a meno che non abbiano voglia di fare una cosa particolare per gli amici e invitare persone selezionate a vedere la performance di un artista esordiente in quel caso ovviamente c'è un compenso all'artista però tutte le volte le performance o vengono realizzate in spazi gratuiti e quindi c'è un discorso di autopromozione dell'artista oppure si superisce all'assenza di transazione economica per la performance semplicemente producendo una documentazione della performance come faceva Gina Pane faceva le sue azioni e venivano scattate delle fotografie di alcuni momenti lo stesso vale per Marina Abramo vice e altri performance cioè si vendono le foto o i video della performance e quindi l'aspetto commerciale viene trattato attraverso questi elementi cosa si fa per la scultura si può applicare il coefficiente ovviamente base più altezza è vero che c'è anche una profondità il problema per la scultura è che tipo di materiale stai usando perché ovviamente ci sono dei materiali che sono molto costosi nella determinazione del prezzo di una scultura che tu sia un giovane ovviamente deve entrare la voce dei costi di produzione se io faccio una scultura col marmo di Carrara ovviamente ha un prezzo elevato già in partenza per il materiale se io faccio una fusione in bronzo e anche se la tiro in più copie ma la fusione in bronzo costa tanto diverso se io faccio un'opera in legno o in polistirolo o in cartapesta capite che lì il discorso dei materiali è molto importante quindi va messo all'interno della determinazione del prezzo il costo del materiale ok non è detto che venga accettata questa cosa da chi vende chi vende può dire tu sei un giovane artista non mi interessa con cosa hai fatto la cosa io a te che sei giovane e che ancora non sei conosciuto non riesco a venderti se mi metti questo tipo di costi di produzione vedi tu fai quello che puoi fare senza usare materiali così nobili oppure fai tu trova uno sponsor che ti paghi la produzione delle opere oppure nel caso migliore faccio io le opere tue le produco io ma quando le ho prodotte tu mi dai tot pezzi ok questo è come accade nella realtà quindi queste sono tutte le possibili varianti c'è qualcosa che non vi è chiaro guardate che la questione economica è importante io volevo sapere per quanto riguarda la digital art la possibilità di poter naturalmente lavorare su un computer e poi poterlo stampare in modo differente su varie cose allora si applica anche se tu lo stampi tu stai facendo un discorso che è molto simile a quello del fotografo e quindi ti comporti come fotografo quindi di base si utilizza quel tipo di un numero oppure stabilisci che esiste solo quel manufatto il file digitale viene distrutto e quella è un'opera unica ok e applichi il coefficiente oppure se tu per digital art intendi qualcosa che rimane sullo schermo dei computer entriamo in una dimensione così aleatoria simile a quella del video sì e i cui costi di produzione peraltro sono determinabili forse in termini di ora e lavoro ma di luce pagata per molto difficile lì l'unica cosa per capirci veramente è entrare in contatto diretto con chi tratta questo genere per esempio la galleria Paris Fabio Paris è specializzata in arte digitale e video e lavora molto all'estero lavora molto con istituzioni pubbliche estere perché è molto specializzata se uno vuole sapere qualcosa potrebbe contattare Fabio Paris e chiedere come ci si comporta in questo caso per altre cose per esempio la galleria monitor è famosa per aver trattato molto il video adesso ho aperto anche una sede a New York sono le realtà che forse conoscono meglio questa cosa io nel mio caso sono in particolare un curatore che si occupa di pittura disegno scultura quindi qualche volta di fotografia ma genericamente questo è il mio range quindi su queste cose specifiche non saprei ecco altre cose sì falla ad alta voce la domanda l'arte dei graffiti credo che rientri anche più o meno nel discorso della performance sì trova la formula di vendita è articolato il discorso dei graffiti nel senso che io con alcuni ho lavorato il graffittista realizza diciamo una pittura murale di solito lo fa per conto suo e per farsi conoscere all'inizio poi viene conosciuto viene apprezzato e qualche privato può desiderare avere un suo dipinto murale paga perché paga per averlo lo stesso è se io sono un curatore e voglio realizzare una mostra in cui ci siano anche degli street artisti voglio far realizzare un dipinto murale devo mettere in conto un budget per la realizzazione del dipinto murale cioè un budget vale a dire un rimborso per l'artista qualche anno fa mi è capitato dipende possono chiedere dai mille fino a infinito per esempio io ho curato un artista che si chiama Zio Ziegler americano californiano ha riempito tutta la zona della baia di San Francisco con i suoi murales e ha realizzato anche un enorme murales per il quartier generale di Facebook a Manlo Park io so che le sue richieste per la realizzazione di un dipinto murale anche piuttosto grosso in Italia perlomeno si aggirano intorno ai 50 mila euro qualcuno ha pagato questa cifra però per esempio ha realizzato un dipinto murale di mi sembra 7-8 metri di lunghezza nella metropolitana di Milano nella stazione di Repubblica gratuitamente ovviamente c'è tutta una tecnica di marketing cioè prima bisogna farsi conoscere e poi se qualcuno vuole come dire appropriarsi di un'opera la paga conosco anche ho conosciuto anche un collezionista italiano che ha comprato un muro di Bansky cioè l'ha fatto tagliare e l'ha fatto portare via nave fino a casa sua quindi capite le possibilità sono infinite il modo si trova cioè voglio dire gli affreschi si staccano anche solo per restaurarli da molto tempo quindi si può fare anche prendendo pezzi di muro eccetera cioè l'importante è che vi sia chiaro in testa più o meno come funziona il meccanismo economico e io torno a una cosa che ieri ha fatto molto scandalo l'arte e i soldi sono indissolubilmente intrecciati mettetevelo in testa che non esiste nessun artista che voi conoscete della storia dell'arte che non abbia saputo che l'arte e il denaro sono intrecciati è così se voi leggete i carteggi tra Theo e Vincent Van Gogh non si parla altro che di soldi se voi vedete il documentario che è stato fatto su Kia recentemente si parla molto spesso di soldi se voi leggete il manuale per artisti di Damian Irst si parla anche di soldi i soldi sono il centro perché come vi ho detto l'arte è un bene voluttuario di lusso è sempre stata legata ai soldi grossa committenza grossa fama dell'artista questi due rapporti sono indissoluti non avremmo conosciuto Damian Irst senza Saci non avremmo conosciuto così bene Michelangelo senza Giulio II è così è committenza e arte denaro e creatività il denaro è una forma di energia se la tua energia è alta devi poter attirare quel tipo di energia certamente se tu continui a credere che l'arte sta in un tempio sacro dove si entra in punta di piedi e dove si celebrano riti devozionali la tua arte sarà così però nessuno se ne accorgerà l'arte è una forma di comunicazione di alto livello e tutte le forme di comunicazione quando diventano manufatti hanno un costo vanno pagate cioè questa cosa io non so quanta letteratura romantica possa avere generato questo genere di pregiudizio ma è così non c'è niente di male denaro fa parte dell'esistenza e l'artista deve poter guadagnare denaro spero tanto ma se tu pensi costantemente che guadagnare denaro è peccato tu non guadagnerai denaro vai contro il tuo stesso credo devi imparare a credere che il denaro non è negativo ma è positivo devi imparare a credere che vendere l'arte non è svendere la propria anima vendere l'arte è la realizzazione di quella forma di comunicazione quelli che dicono io faccio arte per me continuano a farla per sé noi non ne sappiamo nulla di quelli che fanno arte per sé e non ci interessa nulla perché è un discorso solipsistico faccio l'arte per me non serve a nessuno che tu faccia l'arte per te lo fai come terapia benissimo sono contento ma l'arte esiste quando esce da te e va verso gli altri detta così sto capendo bene è come dire che non può esistere arte fatta per gli altri per comunicare ma che ho deciso io di regalare di non farla per soldi non può essere definita arte anche in queste condizioni voglio dire quella che definisce lei è un tipo di arte quella che rientra in un sistema e che fa girare diciamo fa diventare commercio anche l'arte valore economico capisco cosa vuoi dire però ti chiedo citami un artista che così facendo è diventato un artista conosciuto è chiaro probabilmente nella maggior parte dei casi che mi possono venire in mente è una forma di promozione anche quella che è mirata magari a raggiungere poi uno status diverso perché la notorietà o comunque la diffusione delle mie idee sì ma poi si realizza in forma economica allora facciamo gli esempi non so non esistono quindi duro e puro come Bansky duro e puro si fa per dire o prendi Obey Shepard Ferry cioè questi che hanno fatto magari degli interventi urbani dei murales ovviamente quelli sono fatti su muri non vengono venduti sono su muri di case private o di appartenenza della città e del comune quello che però fanno è tesaurizzare la conoscenza cioè la fama tanto compaiono fino a che diventano conosciuti la gente parla e dice hai visto quel murale quella cosa il nome diventa conosciuto ma il momento del realizzo c'è ed è quando iniziano a fare i libri sui propri lavori le tirature le serigrafie quando un disegno di quel nome per esempio Bansky o Odobey viene venduto cioè quella che tu prospetti io faccio arte e la regalo può essere considerata arte ti dico non non può essere considerata arte non esiste nessun artista che regalando i propri pezzi è diventato un artista perché sai la prima cosa che si legge in quella roba lì non è una forma di generosità non è una forma di diffusione virale della tua visione la prima cosa che la gente te legge e la gente di norma è mediamente cattiva è che tu non stimi abbastanza te stesso per dare un valore alle tue opere ecco perché vi ho dato l'esercizio sull'autostima ieri se tu non sai quantificare il valore del tuo lavoro tu non ti stai stimando abbastanza o rispettando abbastanza cioè questa idea romantica io capisco io non la trovo romantica io dico che magari può essere una decisione maturata con consapevolezza cioè che una persona a un certo punto dice io so benissimo quanto vale la mia opera ma siccome per esempio e questo potrebbe essere un caso ti chiedo se è possibile c'è un artista può essere che campa di tutt'altro sì certo allora in quel caso potrebbe essere ma non diventa famoso come artista cioè tu puoi campare di tutt'altro però è arte quella che fa può essere può raggiungere voglio dire valore di arte non escludere allora io dico arte nell'accezione con cui noi la conosciamo cioè tutto quello che tu hai studiato a scuola di arte passa attraverso questo tipo di definizione cioè rapporto con committenza rapporto con collezionismo tutta 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 se invece tu dai un'accezione diciamo io dico romantica ma per dire un'accezione umanistica alla cosa io considero arte anche quello che noi a Milano chiamiamo il pittore dei navigli io considero arte anche chi fa un lavoro di questo tipo al di fuori del sistema ma la verità è che rimarrà al di fuori rimarrà un'esperienza di vita che nessuno conoscerà se non chi se non i conoscenti più prossimi dell'artista o quelli che hanno conservato un disegno può darsi che contro la tua volontà la tua opera venga tesaurizzata dopo la tua morte e allora si racconti questo era l'artista che ha lavorato tanto su questa cosa e ha sempre regalato le sue cose però le cose si muovono solo quando si muove il denaro le pubblicazioni si fanno per guadagnare le divulgazioni si fanno perché sono un modello di business è romantico pensare che comunque nel senso se a me manca l'intenzionalità in generale come artista se a me in questo momento per dieci anni a venire manca l'intenzionalità di produrre arte per lo scopo di guadagnare e poi dopo chiariamoci perché poi sembra che io sia cino nessun artista produce con lo scopo di guadagnare è questa distinzione che non riesco a leggere quando le parla non bisogna essere così assolutisti non puoi pensare nessun artista fa arte solamente perché ha pensato cacchio io domani devo guadagnare faccio arte no non è così non è così altrimenti avresti detto cacchio io mi alzo e domani mi occupo di finanza se voglio fare i soldi però da qui a dire che l'artista non deve pensare al denaro e non deve trattare responsabilmente la questione del denaro e ce ne passa no no era l'espressione l'arte è un lusso l'arte è un lusso per chi se lo può permettere come oggetto è un lusso però io sospetto persino come rapporto di consumazione del visiva oh ragazzi va più gente a vedere partite di calcio o a vedere le mostre c'è più gente che compra la borsa di Louis Vuitton o più gente che compra un disegno o l'iPad o l'iPod o quello che volete allora l'arte è virtualmente democratica e a disposizione di tutti la verità è che non tutti la vogliono quindi l'arte è elitaria perché è elitario il suo pubblico e ancora più elitario rispetto al pubblico dell'arte è la schiera dei collezionisti l'arte è per pochi l'arte costa ed è giusto che costi perché dietro c'è la vita di una persona che ha fatto il lavoro deve costare perché il lavoro dell'artista prevede molti sacrifici prevede momenti di magra e quando viene venduta l'opera non può essere venduta come un qualsiasi oggetto che si trova ovunque perché quell'oggetto è unico o quasi unico quindi il discorso guardate non c'è realizzazione se non vi mettete via questa questione del denaro il denaro non puzza il denaro fa muovere l'arte non volevo dire questo se tu avessi a disposizione molto denaro le tue visioni potrebbero crescere diventare più grandi e tu potresti realizzare progetti su scala molto maggiore di quello che la tua immaginazione fin qui si è concessa siamo d'accordo quindi il denaro serve e allora quando la smettiamo con questo idealismo iniziamo a entrare nel mondo reale che vi assicuro è altrettanto ricco e pieno di cose bellissime come il mondo ideale però smettiamola di prenderci cioè eh io penso che sia una cosa bellissima essere romantici o avere una visione molto umanistica del mondo la verità è che a un certo punto devi crescere crescere non vuol dire diventare duri aridi tu puoi essere un artista generoso che però si occupa delle proprie faccende finanziarie questo è un principio di responsabilità che riguarda gli artisti come i commercianti come i galleristi come il postino è un principio di responsabilità siamo adulti e dobbiamo provvedere a noi stessi io posso provvedere a me stesso con un altro lavoro e fare quello senza guadagnare bene c'è un nome per questa cosa si chiama hobby allora qui si parla di arte come professione qui si parla di arte come sistema economico e sono due cose completamente diverse per hobby puoi essere pieno d'arte dentro però è hobby se tu vai la domenica a giocare a calcio con i tuoi amici si chiama hobby tu non stai giocando in serie A neanche in serie C e neanche nella promozione tu sei uno che va a giocare a calcio con gli amici io non ci riesco mi viene un infarto dopo 5 minuti ma c'è un sacco di gente che lo fa li chiamiamo calciatori no e allora chi fa l'arte per hobby non lo chiamiamo artista diciamo a lobby di dipingere o di disegnare o di girare video amatoriali è questo se vale per il calciatore perché non deve valere per voi ok pausa di metà mattina e poi iniziamo con i portfogli allora vi ricordo come funziona funziona così un po' come abbiamo fatto ieri con alcuni statement l'artista ci racconta brevemente il suo lavoro e ci fa vedere le immagini del suo lavoro compito del pubblico e questa volta io mi impongo è quello di esercitare la funzione critica e vedere stabilire che cosa è forte che cosa è debole ovviamente noi iniziamo con un artista che è già formato è un po' più conosciuto per rompere il ghiaccio diciamo però il vostro contributo dovrebbe essere importante smettetela con questa cosa non voglio essere maleducato non voglio cioè qua si deve esercitare un po' di funzione critica perché quello che dicono cioè lo sguardo esterno ci dà la possibilità di capire alcune cose quindi per favore ricordatevi che ci sono cose da dire su ogni cosa magari è meno facile con Cristiano perché ha già un lavoro più formato però iniziamo come esempio di come si dovrebbe grossomodo presentare il proprio lavoro possiamo andare si vede l'immagine spegniamo questa luce riesce a mettere più a fuoco l'immagine questa è la copertina del portofolio ci sono delle immagini dove c'è un angolo del mio studio qui c'è una cosa che non c'entra molto con il lavoro mio professionale è una committenza diciamo però intanto che il portofolio è imperfetto mancano le didascalie manca lo statement inserito nel portofolio manca il curriculum espositivo vediamo per ora solo delle immagini allora io avevo scritto anche qualcosa ieri no ma non lo leggi ce lo racconti dai ce lo racconti puoi andare allora io ho sempre pensato che che la pratica della pittura sia importantissima cioè dipingere principalmente io dipingo mi sento un pittore artista è una parola grossa qualcuno mi reputa un artista però principalmente io mi reputo un pittore questa è la è la scena di una mostra che abbiamo fatto sul Gargano io sono dell'idea che gli unici che possono realmente muovere il mondo sono i creativi gli artisti i creativi quando comincia a esserci il computo della convenienza nei rapporti sociali non si è più creativi tu sei pericoloso lo sai intanto stiamo vedendo un'immagine recente giusto? perché sono pericoloso? dici prima l'introduzione generale al tuo lavoro non mi sto tremando ma stai tranquillo sei tra amici se sei se sei in ambasce tu pensa loro allora io principalmente dipingo e dipingo folle masse umane dipingo la solitudine nella moltitudine la solitudine dell'individuo all'interno della moltitudine questa è più o meno l'idea generale sono agitatissime in realtà nel portofoglio ho messo diversi questi non c'entrano molto sempre questa è una delle ultime mostre che abbiamo fatto sul Gargano parlavo del computo della convenienza perché senza ricevere niente il discorso che facevi ieri sul dare nessuno si fa 200 km per andare sul Gargano sapendo che non prenderà niente indietro solo un artista che fa 200 km va sopra alle montagne nel Gargano per esporre una mostra e vedere tre persone che entrano nella galleria questo era il senso qualche artista non lo fa qualche artista non lo fa perché mette il compito della convenienza è un discorso è sottile non sto mettendo da parte la questione economica però diciamo che tu hai questa attitudine però entriamo nel lavoro tu dipingi io dipingo la solitudine nella multitudine come la dipingi cerco di come diceva Gianluca Marziani di far digrignare il pennello ostento questa imprecisione questo è un ritratto di William Barrox è un reading di poesia che ho fatto in una libreria indipendente che si chiama Cristiano Pallara cerca di leggere William Barrox io sono molto legato alla letteratura di Barrox anche il discorso del rubare che si faceva ieri quindi usare saccheggiare le fonti saccheggiare il rubro usare le fonti io infatti non uso immagini mie praticamente rubo da internet rubo da giornali da materiali da tutte le immagini che sono state create e che abbiamo a disposizione questa è un'installazione questi sono gli ultimi lavori quindi non torneremo indietro capirete prima erano folle umane adesso sono diventati singoli individui però sempre questa moltitudine di individui la solitudine di questi individui sono principalmente giapponesi non li scelgo in maniera particolare scelgo i giapponesi soprattutto per il colore mi interessano molto la pittura mi interessa il colore io quando dipingo uso tutta la gamma di Winsor e Newton tutta cioè in ogni quadro anche se uno non lo noti vedi sempre questi viola questi rossi c'è tutta la gamma di Winsor e Newton tutti tutti quelli che vendono Winsor e Newton ci sono tutti acquarello? no no ad olio olio tutti tutti in ogni quadro c'è tutta la gamma tutta la gamma tutta la gamma cromatica scusatemi se sto tranquillo questa è sempre un'immagine dell'installazione che ti dicevo prima c'era mia figlia che faceva una performance durante il giorno dell'inaugurazione rivestita dal giapponese dall'olita giapponese su che supporti sono? questi sono tutti oli su carta misura 29,7x21 erano una quarantina di pezzi questi stanno tutti insieme singolarmente sono quelli che avevate visto prima a terra formato? formato 30x21 formato A4 classico queste sono due tavolette ogni tanto mi metto a fare delle tavole miniature che sono sempre basta con questo gigantismo agli 80 ho quest'idea del gigantismo agli 80 per rientrare un po' in una dimensione molto più intima più familiare pezzi piccoli contenuti sono degli esercizi perché non dipingendo poi per molto tempo perché ho dei periodi in cui non dipingo per tantissimo tempo molto male ogni tanto mi metto a fare queste tavolette per riprendere un po' quella pratica della pittura questo è sempre un olio su carta su cartoncino che poi è stato scomposto e diventato un puzzle un puzzle un pezzo unico era un po' per quando abbiamo presentato tutto questo progetto serviva un po' a far capire il senso del progetto della collaborazione della condivisione c'è anche il gioco di mezzo quindi la parte ludica della cosa quindi c'era questo puzzle che dipinto un olio originale e la gente che arrivava sul posto doveva ricomporlo questo non c'entra molto questa è una serie di disegni che ho fatto ispirando gli okusai sempre per per non perdere quel senso del disegno quella pratica che dovrebbe essere costante queste sono le sono le bomboniere del mio matrimonio sono sempre olio su carta la carta è una carta particolare riciclata che sto usando da un po' di tempo a questa parte si chiamano souvenir bomboniere per un matrimonio qui ce ne sono solo tre però erano 50 pezzi tutti uguali sono ritratti sempre da fotografie trovate sui giornali in giro questo è un senza titolo in cinese come supporto non è questo è una tela in realtà è un lenzuolo della Bassetti che io tratto un gesso non devi necessariamente fermarti su ogni singola immagine devi darci una visione generale perché ricordati che il nostro interlocutore è un essere altamente impaziente e soggetto a innervosirsi facilmente queste sono sempre delle tavolette piccole è un lavoro sulla Cina questo sul Giappone la famosa strada di Harajuku dove ci sono gli adolescenti che si vestono e si travestono i cosplayer questo è sempre la massa umana stiamo tornando indietro qui siamo nel 2011 cosplayer sapete no cosa sono per chi non lo sa cosplayer o costume player sono questi ragazzi che si vestono come i protagonisti dei fumetti o dei cartoni animati o dei film che amano e quindi impersonificano questi personaggi e partecipano a delle rassegne delle fiere delle manifestazioni in cui altri come loro si presentano è una sorta di carnevale di carnevale giapponese non è un fenomeno solo giapponese è diventato un fenomeno mondiale questo è un quadro a cui tengo particolarmente mi piace l'idea del matrimonio dei costumi delle tradizioni lo sappiamo che ti piace il matrimonio quindi che cosa ci puoi dire della progressione dai precedenti agli ultimi che cosa è cambiato secondo te devi avere la coscienza di un cambiamento in atto anche se il tema rimane lo stesso siccome abbiamo detto che il tema per l'arte è sempre pretestuoso beh intanto è cambiata il modo di fare di fare le cose e di dipingerle è cambiato cioè lo vedi qui vedi questa secchezza nei volti nei quali sono molto ostentano questa imprecisione anche negli ultimi nei volti delle giovani giapponesi questa imprecisione si è addolcita quindi sei diventato più preciso più attento anche ad alcune cose allo studio di una pennellata piuttosto che di un segno quindi se all'inizio c'era molto molta casualità in realtà nei lavori adesso vengono cioè nel momento in cui mi ha cominciato a dipingere so già qual è il risultato finale questo succede quando il linguaggio diventa la cosa principale il linguaggio è il modo con cui fai le cose è il vero tema dell'arte non è quello che non sono i cosplayer sì sono un pretesto il tema è come fai le cose e perché le fai in maniera diversa da qualcun altro perché questa può rientrare nella cosiddetta definizione di pittura medialista diciamo no? perché Cristiano si è formato diciamo negli anni 90 a livello artistico nella scuola di Galliano esatto quindi negli anni 90 italiani sono caratterizzati da un tipo di pittura che fa riferimento a altri mezzi espressivi in particolare la televisione e la fotografia e quindi riporta certi effetti della visione come dire catodica o digitale sulla tela ma non sono per forza trasposizioni fedelmente mimetiche l'insegnamento viene dall'originale che è Richter il quale è il primo che ha ragionato sull'immagine e sullo sviluppo di un'immagine che andava cambiando dalla visione diretta fino alla visione mediata dai nuovi media cioè il fatto che noi vediamo la realtà attraverso quella tipologia di visione che era prima del tubo catodico e oggi è dello schermo digitale e prima ancora della fotografia se vogliamo cioè non guardiamo più la realtà direttamente ma la guardiamo attraverso altri strumenti meccanici che guardano la realtà abbiamo finito qua c'è il curriculum in realtà c'è il curriculum vediamo il curriculum ok non è abbastanza poco poi aumentare per me ipovedente questa cosa come si fa? la percentuale porta dal 120 almeno 125 ok qui in alto ci sono le informazioni informazioni nato a Lecce 23.1 vive e lavora tra Lecce e Taranto informazioni di contatto l'indirizzo la mail il numero di telefono studi compiuti perché hai messo tutto insieme? perché in realtà c'ho solo una mostra personale al mio attivo e ti faceva brutto mi fa brutto mettere mostre anche perché è vecchia del 2005 e quindi metto tutto insieme ho scritto mostre personali collettive progetti speciali selezione va bene nel 2014 ok va abbastanza bene ok cosa dite? adesso ti tocca fare anche la velina di te stesso cosa dite? ricordate che è a vostro beneficio esercitare il pensiero critico dai forza dai no può anche non essere aggressione no assolutamente assolutamente passami un po' no no assolutamente niente di negativo soltanto la qualità dell'immagine che è stata proiettata io preferivo vederlo qua ma ci sono dei problemi tecnici tutto positivo io non lo conoscevo mi piace a me i lavori più vecchi hanno ricordato Marlène Domain ma magari perché sono io un po' fissato e mi sono piaciuti tantissimo però però in realtà non sono così sgranati per cui posso tu dici bianchi e neri alcune cose di bianchi e nero sì in realtà è un po' diverso proprio la grana del lavoro è diversa a me è piaciuto molto però io vi ho detto ieri le regole mi piace non mi piace non ci dico non serve ho molto apprezzato eh? non conoscendo il lavoro di Cristiano interessante ho trovato un'attinenza con un artista locale che si chiama Pino Caputi forse lo conoscerà pure Cristiano che si è formato all'Accademia negli anni 90 ed è molto interessante anche la sua pittura ok è aperto sì no io non notavo questa cosa che ha sottolineato anche Cristiano il passaggio è interessante da un momento un po' più ruvido no? della sua vita probabilmente anche sì ad una morbidezza l'acquisizione di uno stile più morbido che probabilmente corrisponde anche a delle scelte di vita niente questa cosa mi interessava forse in me invece con Cristiano vi vedo troppo timidi perché avete troppo rispetto però adesso facciamo con voi chifo però c'è quello che presenta no adesso chi se la sente di venire qua allora io facciamo Josec ha alzato un pelino prima di te la mano dai ecco lui non lo conoscete altrettanto bene spero che abbiate qualcosa da dire che cosa e com'è fisico cartaceo allora se puoi ah hai sulla penna allora mettiamo la penna Margherita vieni tu qua perché io oramai sono non riesco solo a dialogare con l'Apple ok vi ricordate quello che vi ho detto ieri del perché avere un portfolio fisico per queste ragioni qua apro chiudo cartelle cose il gallerista il critico si è già rotto le palle dai apri una alla volta così ce le apri ok allora allora microfono lui si chiama no devi fermarlo e andare avanti tu manualmente in modalità presentazione non va bene allora allora io per favore praticamente io ho iniziato a disegnare da un anno e mezzo circa stavo dicendo che io da un anno e mezzo che ho iniziato a fare questi tipi di disegni solo che fino adesso non sto cercando praticamente di capire quale sia la la mia tecnica per poter diciamo proseguire in queste cose nello studio allora questi sono una serie di disegni fatti soltanto con la pelle con una matita e siccome io non no perché la prima volta che faccio queste cose cioè solitamente io non mi metto mai a fare a spiegare questi disegni che faccio io solitamente li li faccio per per adesso come hobby però poi in seguito non so se potrebbe succedere qualcosa e questi tipi di disegni sono praticamente una uno studio che sto facendo per capire appunto che tipo di tecnica voglio utilizzare solitamente adesso preferisco fare queste cose di prendere dei prendere dei delle delle foto allora facciamo così facci vedere il meglio allora allora questi sono i primi disegni che ho fatto questi qua il meglio è il meglio delle recente ricordati andamento inverso dalle più recenti alle meno recenti ah perché non sono in ordine allora questi sono delle dei ritratti di di amici questo per esempio è un disegno e dopo ci organizziamo diversamente col computer non va bene dobbiamo tornare a come dico io facciamo cartaceo per chi ce l'ha certo o col computer perché se no non ne usciamo vivi ok fermiamoci così non va bene allora mi riaccendete questa luce se riesci con la camera a puntare verso di qua o a spostarla e venire più vicino qua voi vi alzate e vi mettete tutti di qua che adesso vediamo il portfoglio come dico io perché altrimenti non capiamo molla il microfono vieni qua tira fuori e inizia a selezionare i lavori in quanti sono in streaming? 6 ok dovete venire qua perché se no non vedete dovete venire qua qua c'è spazio e non dovete andare davanti alla camera però tu ti devi avvicinare un po' con la camera ok allora tenete presente che lì c'è la camera quindi chiudiamo un attimo qua ok questa è la tua selezione the best of eh per adesso ok dici qualcosa allora solitamente prendo come soggetto la figura femminile ok per adesso poi cerco di di sviluppare cerco di di capire come poter fare la le caratteristiche dell'occhio dello squarto almeno è il microfono microfono scusate colpa mia allora quindi la maggior parte di questi disegni sono figure maschili e femminili inizialmente inizialmente stavo prendevo delle prendevo dei delle fotografie e siccome io non non so utilizzare ancora il colore l'unico mezzo per poter diciamo esprimere queste cose è la la matita e inizialmente prendevo questi ritratti e me li disegnavo io ma come come esercizio per poter abituare la mano ok allora vediamo quelli che non consideri più esercizi allora quello che puoi dire questo è qualcosa di più di un esercizio per esempio adesso sto cercando di capire da un da una da un semplice ritratto dare diciamo un tipo di effetto particolare in modo tale che ti riferisce a queste cose a questi a questi tipi di effetti ok oppure questa è un'altra questo qua è un un ritratto che come si dice che non dà molta importanza ai particolari come per esempio l'ho data a questo disegno con con i capelli e quindi da qua sto cercando di capire come poter sviluppare questi questi disegni questo è più diciamo particolare questo qua invece è meno particolare rispetto a a questo a questo precedente e questo qua invece voi capite perché serve un portfolio perché che questa situazione è per un possibile interessato insostenibile non si può fare così adesso io ti ringrazio perché sei stato coraggioso è il primo è anche vero che non avete avuto sufficiente tempo io spero che capiate che da qui in avanti bisogna realizzare un portfolio con le caratteristiche che vi ho detto perché è uno strumento facile in cui aprite e rendete scorrevole la visione non fate perdere tempo alle persone e in più imparate sul vostro lavoro a selezionare ciò che è buono da ciò che non lo è ok adesso ci fermiamo un attimo ovviamente il suo caso è particolare però vorrei che adesso interveniste voi poi dirò io la mia chi vuole intervenire ok è già acceso secondo me lui lui si è soffermato solo su un aspetto tecnico del disegno non è andato oltre per cercare di trovare il suo vero se stesso insomma si è fermato soltanto sull'aspetto tecnico no tu non puoi parlare questo è il momento di ascoltare per te ok qualcun altro qualcun altro io più che altro sulla formalità nel senso che i fogli a quattro protocolli forse non sono proprio adatti per per fare qualcosa di più anche interessante anche solo a livello di esercizi inoltre mi ha colpito molto che prendi tutto il foglio e non c'è respiro nel senso che l'immagine avrebbe bisogno di respirare di più quindi se tu volessi in futuro realizzare qualche altro disegno esercizio secondo me ti converrebbe non prendere tutto il foglio ma diciamo concentrarti al centro diciamo così ho imparato visivamente qualcun altro ci sono tante cose dovete no dovete giudicare il lavoro il modo con cui l'ha presentato è relazionato al fatto che non c'è un portfoglio quindi tu hai fatto quello che hai potuto nessuno ti rimprovera però andiamo sul lavoro e cerchiamo di fargli capire per che cosa non va e che cosa va eventualmente diciamo diciamo che hai cominciato da poco per aver cominciato da poco hai una gran bella mano cercarti vuol dire forse fare anche un po' di ricerca tecnica parlo proprio di tecniche realizzative studiare un po' di materiali non fare solamente questo tipo di soggetti anche se ho visto che stai cominciando a cambiare stai andando verso una graficizzazione cioè tu dicevi uno più particolare l'altro meno particolare e uno più particolareggiato e l'altro meno particolareggiato cosa vuol dire? che è come se tu usassi una matita piccola per fare il più particolareggiato o usassi una matita più larga per fare un disegno meno particolareggiato ora disegni sarebbero tanti potresti anche cominciare a individuare degli autori in cui magari vedi dei punti di arrivo che poi ti fermo un attimo tu dovresti avere la penna in mano e iniziare a scrivere i suggerimenti che ti stanno dando se no non ti serve questa è la penna prendi questo foglio e inizi a segnarti le cose penso questo cioè ti parlo prettamente da un punto di vista tecnico perché è quello su cui sono anche più ferrato visto che faccio studi artistici da quando sono nato praticamente quindi questo è il discorso relativo ai disegni lui non l'ha detto è un'autodidatta è un'autodidatta sì 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 non l'avevo intuito no ripeto ha un'ottima mano quindi cioè per una persona che disegna da un anno e mezzo anche grande perché avrà la mia età più strato 38 più grande di me è un ottimo inizio però secondo me dovresti un pochettino adesso accelerare i tempi visto che la mano ce l'hai il disegno ce l'hai la padroneggi matita e gomma ok buttati su disegna che ne so sulle pietre inventati qualcosa di diverso tanto comunque per mostrare il tuo lavoro oggi c'è la fotografia digitale tutto è facilitato però dovresti trovare adesso come diceva lui la tua strada lo puoi fare perché hai l'età penso che hai anche le conoscenze è un buon livello tecnico di partenza quindi non ti porre dei limiti non dire sto studiando sto cercando sto provando a fare comincia a fare le cose vedi le cose che ti piacciono magari all'inizio copia però poi dopo cercati la tua strada perché ripeto hai una mano secondo me eccellente ok qualcun altro posso dire che nei vostri interventi state perdendo la visione generale cioè è tutto giusto quello che avete detto avete giudicato l'aspetto tecnico e avete individuato il fatto che manca ancora una personalità che deve cercarsi avete suggerito di fare più sperimentazione tecnica è vero che lui ha una buona mano pur essendo autodidatta e che da poco fa questo lavoro ma se io dovessi giudicare da detto ai lavori questo lavoro non lo prendo neanche lontanamente in considerazione non ti offendere lo dico perché tu possa come dire in qualche modo trovare delle soluzioni qui manca una cosa fondamentale non c'è ricerca nel senso che non c'è la cultura artistica cioè qui c'è un'azione artigianale di qualcuno che ha un talento ma che è come un grande appezzamento di terra che deve essere ancora del tutto lavorato e in più lavorato da qualcuno che molto probabilmente non conosce la storia dell'arte e la storia dell'arte contemporanea cioè e quindi se non ha queste conoscenze in che modo può trovare se stesso non è possibile senza lo studio qui lo capisco dal genere d'immagine che l'orientamento visivo in cui si muove è un orientamento visivo povero molto povero uno che sapesse che cosa succede nel mondo dell'arte contemporanea a livello internazionale e che quindi conoscesse la storia avrebbe tutt'altri riferimenti visivi quindi non commetterebbe le normali ingenuità che tu umanamente commetti che tu stai affrontando il lavoro dal punto di vista unicamente tecnico cioè siccome non ho fatto la scuola devo sopperire a questa cosa dal punto di vista tecnico il problema è che puoi essere iper tecnico e forse anche più bravo di così ma non sei ancora un artista l'artista è colui che ha una visione che crea nella propria mente e che crea sapendo ciò che gli altri hanno creato cioè qui ragazzi mancano i libri i fondamenti oltre alla visione delle mostre vi ripeto muoversi andare alle fiere andare a vedere le mostre e anche questo non basta io ho una lista di libri da darvi ma prima ancora vorrei sapere qual è l'ultimo libro che avete comprato di arte mi potete dire mamma voglio fare l'artista mamma voglio fare l'artista è un saggio non ti fa fare ginnastica dell'occhio sono le opinioni di un curatore peraltro anche un po' amare fa anche ridere non sono neanche d'accordo moltissimo con lui però vabbè almeno sai chi è Francesco Bonami poi Gombrich va bene ma siamo sempre nell'ambito saggistico questi sono libri da scuola poi il mio libro non vale 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 quale poi quale com'è di che dimensione è che è grande così è quello che ci sono tutte le pubblicazioni degli artisti giovani che fanno il figlio e c'è l'Italia Italia New Bro o va bene va bene comunque non vale non vale cioè vale ma fino a un certo punto che libri con le immagini avete acquistato saggistica sì ma non ti fanno fare ginnastica dell'occhio poi Guy Le Bor non è uno specializzato di arte fa un discorso sì ma come dire non è uno storico dell'arte Le Bor è uno storico è uno studioso dell'immagine in generale Argan è un manuale sì è il manuale di contemporanea con cui Guy Le Bonito lì va affiancato organo ok Poli va bene è tutta saggistica ma è roba d'accademia te lo danno nei corsi Poli poi sì che cosa che artisti già meglio qualcuno conosce questa collana dell'Electa ok sono delle piccole monografie a prezzo contenuto su alcuni artisti internazionali poi si ok 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 questo è ok non sento ancora squillare le mie orecchie con le case editrici giuste poi castelvecchie giuste castelvecchie castelvecchie ok va bene le biografie degli artisti vanno bene la saggistica va bene è tutta cultura generale eh flash art ok allora se io vi dico menzionatemi almeno dieci pittori contemporanei qualcuno me li può menzionare internazionali perché non li conosco io non li conosco stai andando in una nicchia non mi stai dicendo dieci artisti internazionali conosciuti pittori contemporanei quello si si però ce ne sono dai più facili stiamo giocando facili John Carring Costaby Costaby che tristezza ecco Richard Richter non è proprio un giovanissimo eh Carring è la cosa più vicina che ho sentito poi Peter Doig poi ragazzi io ve lo dico per voi cioè rendetevi conto se non sapete neanche neanche dieci pittori internazionali in sintonia con le pubblicazioni più importanti per chi è un pittore ovviamente ce ne sono per ogni tipo di media allora se dico Fidon qualcuno si sa cos'è bravo Fidon Press Fidon Press deve essere il vostro Vangelo d'ora in avanti Fidon Press casa editrice inglese pubblica poi vi darò l'elenco pubblicazioni Fidon P-H-Aidon Fidon Press pubblica tutto ciò che è contemporaneo di livello internazionale in particolare negli ultimi anni ha pubblicato un volume di Tony Godfrey che è stato anche tradotto in italiano in italiano si chiama Pittura oggi presenta il meglio della pittura internazionale però ha fatto anche Fidon Press una collana dedicata a vari media non solo la pittura il primo è stato Vitamin P che significa P sta per Painting quindi Vitamin P rappresentava il meglio della pittura internazionale il suo seguito che troverete più facilmente è Vitamin P2 poi c'è Vitamin PH cioè fotografi con il gota della fotografia internazionale c'è Vitamin D dedicato a drawing disegno ok c'è anche un vitamin dedicato alle installazioni e c'è un vitamin dedicato mi sembra al design è una collana molto bella si trovano anche usati sono libri belli che costano ma lì c'è la vostra bussola è lì è su quello che ci si è quelle cose vanno studiate quel libro va portato a letto in bagno ovunque e quando non si ha che fare si guarda quel libro continuamente ossessivamente lì c'è il meglio dovete provare la frustrazione di non essere bravi come quelli lì dovete provare questa frustrazione se no non vi muovete la frustrazione è un motore di crescita ok lì ci sono i migliori Karin Neorauk Schnell Weischer sono tanti Mamma Anderson Jokum Nordstrom Marcel Zama ce ne sono quanti ne volete sono quelli conosciuti voi non potete parlare di arte se non conoscete questa gente questi sono quelli che alcuni hanno anche la vostra età sono già delle superstar se lo sono è perché la qualità e la coerenza del loro lavoro è tale di aver convinto delle gallerie a mettere mano al portafoglio per averli alcuni di questi ci sono le liste d'attesa per avere un pezzo tu non ti puoi svegliare domani e comprare un Neorauk non funziona così e io non te lo vendo devo sapere tutto di chi sei tu prima di venderti Neorauk e te lo vendo mettendoti in attesa in ogni caso quando io ieri ho citato scuola di Lizia qua non è successo niente nessuno sa cos'è quando ho detto scuola di Clugi nessuno sa cos'è se io dico che cos'è il New Folk voi non sapete cos'è forse qualcuno sa cos'è il pop surrealismo e la lowbrow art se io parlo di pittura ambigua voi non sapete che cos'è allora di che cosa stiamo parlando vi dovete scetare come dicono a Napoli svegliatevi se volete fare i pittori i fotografi gli artisti dovete avere un interesse per quello che fanno i grandi dovete stare sulle spalle dei giganti dovete avere dei modelli come vi ho detto l'artista è qualcuno che ruba e che copia dovete avere più modelli da copiare se non sapete niente a parte che se andate in una galleria interessante e vi mettete a parlare è il vostro orizzonte di riferimenti e questo ci mettono due secondi a dire ma questo non sa un cazzo la sua pittura di conseguenza o la sua fotografia o la sua videoarte di conseguenza non potrà avere le caratteristiche di importanza cioè di espressione del proprio tempo o anche di un tempo o altro ma con la sensibilità di questo tempo è così io vi sto dicendo per voi ovviamente non ho nessun gusto a frustarvi devo farvi provare uno stato di frustrazione perché voi vi rendiate conto della distanza che c'è da compiere altrimenti se pensate che si diventa artisti così pensate male io devo prima demolire tutti i pregiudizi che avete accumulato nel tempo o i pensieri o i retropensieri abbiamo iniziato con la questione dei soldi dell'economia ma in realtà si può andare avanti oltre cioè lui è semplicemente un caso di un approccio naiffa all'arte io nella sua concezione lui sa che deve fare qualche cosa di più di quello che sta facendo infatti molto onestamente chiama questi degli esercizi è giusto ma voglio inserirvi l'idea che non è sufficiente essere bravi e avere talento non basta bisogna avere qualcosa di più avere talento è una precondizione poi c'è tutto il resto sapete quanti pittori di talento da quando ho iniziato io ho visto perdersi sparire tanti sappiate che partono in centinaia e ne arrivano sempre decine se non meno di decine è dura chi vuole fare deve avere la pazienza la forza l'energia di essere informato costantemente deve viaggiare deve muoversi deve sbattersi deve lavorare il triplo di quello che lavora in ufficio delle persone normali che insegnano che lavorano in ufficio che fanno altre cose l'artista lavora il doppio minimo se no non realizza ciò che vuole realizzare ok che ore sono scusate se avevo 12 e mezza quindi abbiamo tempo per un altro portfoglio chi si offre con tu hai capito? sì ok ma mi fa tutto non posso vedere questi qua per capire che cose che mancano tanta roba ancora ok allora tu vieni di qua di modo che gli altri ti vedano e mettiamo per così no computer no ok lo ti uso per dare altre informazioni portfoglio così no brutto ufficio ci metto le bollette da pagare tristezza portfoglio cartoncino nero grigio come volete sobrio ma elegante ok no fogli di plastica cartoncino bucare anelli ok lo dico in maniera più semplice possibile questo è ovviamente una versione demo però la uso per dare informazioni ok ti lascio la parola ricorda il tuo nome agli altri scusate colpa mia questa cosa bisogna fare bisogna fare ok cosa ho detto ieri quando è che si impara quando usciamo dalla zona di comfort forza allora sono Loredana Albanese e queste sono le foto delle ultime opere non proprio ultime riuscite a vedere ok facci un discorso generale poi passiamo alla visione delle singole discorso generale che è il tuo statement più o meno quello che ti ricordi di aver scritto beh sono un'artista figurativa e quello che rappresento oggi è un po' la sintesi di questa ricerca che ho fatto in tanti anni adesso le immagini sono diventate più sintetiche la raffigurazione degli oggetti negli spazi assume una dimensione reale e irreale a seconda delle immagini stesse ci sono immagini dell'infanzia questi fili che collegano e scollegano un po' gli spazi e il cromatismo è diventato un pochino differente rispetto alle opere precedenti l'intento è di voler dare questa sensazione di leggerezza e quindi di poter analizzare rispetto dei temi affrontati un diverso approccio la leggerezza è un'agente della vita molto spesso volano elefantini che magari è possibile far volare e quindi è quello di voler credere in alcune cose che nella realtà non esistono queste sono opere precedenti e questo è ancora prima quindi sono passata da una pittura figurativa classica diciamo così ad una sintesi mancano le ultime opere dove sono presenti anche delle parole delle parole e quindi c'è un anagramma fra i titoli delle opere e queste lettere che anche queste sono un po' sospite mi dispiace ma gli ultimi lavori non ci sono non ti preoccupare si fa qualche sicuro ok allora dovete giudicare anche l'esposizione potendo nel microfono magari la lettura orizzontale verticale in questo caso è sbagliata perché comunque poi si è costretto a girare il portfolio magari dare o una lettura tutta verticale tutta orizzontale questo è un particolare tecnico di organizzazione del portfolio ok che altro l'esposizione vi è parsa chiara il racconto no che cosa mancava nell'esposizione cioè non ha parlato del suo linguaggio ha detto semplicemente che è una pittrice figurativa che vuol dire tutto e niente cioè è molto generica e ha detto anche ha asserito che attraverso gli ultimi lavori può fare accadere delle cose che nella realtà non accadono benvenuta nel mondo della pittura è così da credo che già dalle grotte di Lescaux fosse così beh è quello che è passato tu devi stare attenta a quello che dici e sentire i feedback sono importanti il lavoro passa nel microfono tu devi memorizzare quello che ti dicono ok è il desiderio il desiderio di vederle meglio più grandi ok immaginavo un portfoglio più grande e quindi con delle immagini molto più grandi immagino che se io fossi un gallerista un curatore vorrei avere la possibilità di poter entrare meglio nell'immagine proprio nel lavoro ok tu non devi dirmi che cosa sei riuscito o non riuscito a fare io adesso devo usare questa cosa per dare delle informazioni come ieri vi ho detto no grassetto questo è tutto in grassetto questo è in grassetto vi ho detto no didascalia attaccata all'opera questa didascalia è attaccata all'opera vi ho detto didascalia per dare meno fastidio a piedi pagina piedi pagina non è qua piedi pagina è qua la grandezza del carattere molto invasiva rispetto all'opera vi ho detto anche non usate il nero al 100% che è fastidioso nero 100% le opere sono piccole in questo caso non usa il nero al 100% ma mette arbitrarmente tutto in corsivo le opere sono molto piccole rispetto al foglio se sono dei 30-30 è accettabile ma se sono dei 70-70 intanto l'opera va centrata nel foglio va lasciato un margine ma qua ce n'è troppo naviga nel vuoto non va bene a parte tutti questi particolari tecnici che sono anche dovuti alla poco tempo che ha avuto per realizzare questa cosa quindi non stiamo giudicando il lavoro che ha fatto stiamo utilizzando questo lavoro per dire cosa non si fa nella nostra versione definitiva però entriamo nel merito del lavoro perché qui ci sono cose da dire vi voglio ricordare l'elenco che vi ho dato affrontare le critiche perché io devo poter diventare cattivo ok sul lavoro dai no col microfono non puoi dire mi piace non mi piace le colorazioni a me sembrano mi portano molto indietro nel passato a parte il primo che lo trovo molto moderno come colorazione questo gli altri mi ricordano artisti del passato quindi non le riesco a focalizzare nel presente ok quindi stai dicendo in parole prosaicamente che ti sembra vecchio l'approccio non vecchio diciamo demo de una colorazione un'ispirazione ad artisti del passato però senza di senza moderne moderne ok della del colore che altro passare il microfono soprattutto mentre raccontava l'ha sottolineato che la scelta affidato alla scelta cromatica la scelta dei colori certo l'obiettivo di rendere moderna la tua cittura invece io trovo molto più contemporaneo l'ultimo forse uno dei primi che hai fatto non puoi parlare guarda che ti squalifico solo questo ok quindi qualcun altro? sì passa io non riesco a vedere molto bene alcuni però per quello che vedo grossolanamente è molto diretta la comunicazione dell'idea di leggerezza a proposito di quello che si diceva ieri sulla capacità di comunicare inesauribile del quadro cioè la capacità di conservare un mistero diciamo dentro l'immagine molto esplicito ok ok qualche altra notazione qua la tecnica la vedo molto più diversa rispetto agli altri vedo che grafica su uno sfondo vittorico che forse è più interessante come evoluzione sicuramente è un appunto che sicuramente però che continua a essere di da scarica l'idea di leggerezza sì allora qui c'è un grossissimo problema grossissimo un problema abbastanza comune pensare che siccome ho imparato a dipingere e so dipingere ho in mano un lavoro non è così anche se hai un'idea di leggerezza che vuoi trasmettere ci sono molti modi di trasmettere l'idea di leggerezza questi sono fortemente dipendenti dalla cultura figurativa artistica che tu hai maggiore la cultura visiva che tu hai maggiori sono le fonti da cui puoi rubare e allora qui io guardando la tua pittura vedo subito una pittura figurativa di stampo anni 90 ma molto 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 accademica cioè molto semplice con una tendenza decisa verso il didascalico cioè con una premura di comunicare un'idea in una maniera che direi così fuori di metafora ti fa calare il desiderio non so come dire cioè me la dici così chiara che non ho voglia di indagare il mistero o la sensazione di leggerezza che tu vuoi trasferire cioè qua c'è un sacco di ingenuità stilistica oltretutto è una pittura che si attiene rigidamente a certi codici figurativi cioè potrei elencarti centinaia di pittori che hanno dipinto così perché? perché hanno pensato forse le stesse cose cioè siccome so dipingere adesso dipingo va benissimo il problema è che si evince che la fatica che tu stai facendo per trovare una tua personalità e che sicuramente è premiata dall'ultimo lavoro che mi sembra meglio degli altri ma anche quello lì nonostante sia linguisticamente più evoluto e migliore ha quella tendenza di da scarica cioè la leggerezza una bambina con la cosa che ho capito ma allora non è che io dico che se devi vedere non voglio dire io vedo un lavoro di Neorauk lo so che vi sto parlando di qualcuno che non sapete minimamente chi è ma se vedo un lavoro di Neorauk non smetto di guardarlo per un bel po' perché non ci sto capendo veramente niente eppure sono avvinto da quella pittura quella pittura ha un modo di adescarmi e di avvincermi e di comunicarmi cose confuse che mi obbligano a chiarirle quindi è una pittura alla quale io partecipo cioè io divento il creatore del senso divento compartecipe della creazione di senso ed è questo la grande figata dell'arte contemporanea cioè chiedere all'osservatore di partecipare alla conclusione della visione e ovviamente ogni osservatore è diverso e conclude diversamente ma non si tratta soltanto di una meschina tecnica per rimanere ambigui il fatto è che l'artista è così maturo da aver capito che ciò che si può chiarire con la pittura non è un qualche cosa che può essere razionalizzato completamente ecco perché la bambina che tiene in mano qualcosa che allude al vento al volo mi sembra fosse una di quelle cose che girano cose che aveva in mano o dei fili con delle farfalle è troppo evidente cioè io vedo l'immagine per quale ragione devo continuare a guardarla ho già compreso tutto quindi non sta più rilasciando significato e non mi sta più incuriosendo noi siamo essere altamente bombardati da immagini quindi le nostre esigenze sono altissime dopo cercherò via internet alcune immagini di Neorauk ecco lui ha un'immagine di Neorauk avvicinati metti qua il telefono Neorauk CH no facciamolo vedere da qua sei collegata? allora vai su Google le immagini e cerchiamo Neorauk eh? ah l'uscita no se no uso questo uso l'altro di Cristiano Cristiano vediamo vedi tu no giusto per farvi capire voglio farvi vedere qualche immagine un po' più complessa non perché voi diventiate per forza complessi ci sono anche artisti che con il vuoto riescono a essere complessi sicuramente conoscete un artista che si chiama Lee Ufan no non mi stupisce è un artista è un pittore coreano che dipinge delle grandi tele monocrome con due piccoli interventi di pennello è una cosa molto zen molto vuota però non ti stacchi da quella visione ti rimane ossessivamente dentro è l'artista più importante coreano sponsorizzato dalla Samsung è l'artista della Samsung ma quando ha iniziato non lo voleva nessuno un gallerista come Lorenzelli Arte a Milano l'ha comprato a poco e oggi vale milioni il Guggenheim l'anno scorso gli ha dedicato un'intera mostra personale ok la complessità può passare attraverso la semplicità Li Ufan cioè non è tipica sua però ce l'hai con le davanti non c'è con le davanti ragazzi se ho messo tu hai messo si ok come scritto no ne ho spazio R A U C H esatto però quello sarà un 5 metri di quadro come faccio ma qua non è collegato a cosa mi collego CNOS ci ne porto ci ne porto ci ne porto è attivo vabbè al limite ci organizziamo dopo tanto adesso siamo in chiusura per la pausa le cose vi assicuro che iniziano a cambiare com'è non ci si capisce un emerito mazza però a parte l'immagine un po' sgranata se voi guardate un dipinto è dipinto bene ma bene bene da uno che ha due palle così è un pittore bravo ma bravo in un senso classico ma quello che fa non è assolutamente classico Neurauk è un pittore di Lipsia Lipsia prima del crollo del muro di Berlino era nella parte sbagliata della Germania nella parte sbagliata della Germania l'accademia si insegnavano altre cose rispetto alla parte occidentale cioè nella parte occidentale gli insegnamenti prevalenti erano quelli di arte concettuale per esempio Bois è stato un grandissimo insegnante ecco mentre di là si insegnava l'arte concettuale di qua si continuava a insegnare pittura ma il clima visivo era fortemente influenzato dalla propaganda comunista lui ha affuso la storia dell'arte gli old master i grandi maestri sia tedeschi che rinascimentali lui dichiara palesemente di ispirarsi moltissimo anche a De Chirico e li ha fusi con un certo immaginario di propaganda del blocco est europeo diciamo inoltre si ispira moltissimo alla storia quello che io voglio che voi notiate è che da buon tedesco non si interessa minimamente della coerenza spazio-temporale non so come dire cioè la coesistenza di luoghi situazioni e tempi aiutano a costruire una narrazione che è assolutamente assurda folle ma che ha una sua coerenza interna mi spiace che va lentissimo e non riesco a farvi vedere le cose nei tempi certo certi colori certi gialli certi rossi vengono da lì ecco Neorauk è il pittore forse più pagato al mondo insieme a John Kerry incidenti troppo piccola lui non lo conosco devo dire che non ho una conoscenza encicloferica ci possono essere molte cose che non conosco io vi faccio vedere questi che sono certamente tra i più conosciuti al mondo guardate qua oggetti di cui non si capisce forma e funzione luoghi in cui si fondono delle caratteristiche con altre caratteristiche cioè assolutamente assurdo ma non è semplicemente surrealismo qui c'è dietro anche un modo di ristrutturare la tradizione prospettica degli equilibri della diciamo la tradizione aurea del Mediterraneo della classicità sovvertita e messa al servizio di una sensibilità contemporanea è ovvio che un italiano fa più fatica a fare questo perché il peso della tradizione artistica ci vincola mentre un tedesco di quale ha altrettanta tradizione artistica anche rinascimentale e anche classica forse è più libero di giocare con le cose qui quello che si evince è la potenza di visione che lui ha avuto prima cioè il coraggio di provare a rappresentare l'irrappresentabile non in maniera facile sciocca lui ha costruito coerentemente un mondo per arrivare a immaginare in questo modo devi essere un grande artista e poi per dipingerlo così bene devi essere un grande tecnico sicuramente ma lui gioca con le proporzioni cioè ne sono altri che sono molto meno equilibrati di questo altri lavori anche l'utilizzo dell'impatto grafico comunque prende molto da varie epoche all'interno del novecento certo novecento e ottocento e anche goia ci sono molte cose però è assolutamente diverso da tutti avete notato che c'è una coerenza cromatica avete notato che il modo migliore per raggiungere anche una personalità e lavorare sulla palette cromatica si può lavorare in molti modi per esempio primo Cristiano ci ha detto io utilizzo tutta la gamma cromatica di quella serie ma voi non me ne accorgete qualcun altro invece dice io utilizzo soltanto questi colori perché questi colori mi corrispondono al punto di vista di temperamento e quindi alla fine lo stile si crea anche passando attraverso una riduzione di gamma cromatica dopo vi farò vedere per esempio come ha utilizzato la riduzione della gamma cromatica per farla diventare un elemento stilistico Marcell Zama ok per adesso abbiamo finito per questa mattina andiamo in pausa